La vicenda del concorso per dirigenti scolastici si sta rivelando molto più complicata di quanto si poteva pensare. Nella giornata del 2 luglio il Tar Lazio è intervenuto con una prima sentenza dirompente con cui la procedura concorsuale a partire dalla prova scritta viene annullata. Per la verità il Tar ha rigettato quasi tutte le motivazioni adotte dai ricorrenti, in particolare non ha tenuto in nessuna considerazione il fatto che la prova scritta non si sia svolta nella stessa data in tutta Italia. Come è noto in Sardegna la prova era stata rinviata a causa delle cattive condizioni meteo, così come non ha tenuto affatto conto del malfunzionamento del sistema informatico e neppure della presunta violazione del principio di anonimato. I giudici amministrativi al contrario si sono soffermati sulla composizione delle commissioni ed è su questo punto che sono emerse irregolarità di non poco conto. Secondo l'esame del Tar due o forse addirittura tre membri di altrettante sottocommissioni sarebbero stati designati in modo irregolare in quanto sarebbero intervenuti in attività di formazione rivolte proprio ai candidati del concorso. Ora il bando del concorso stabilisce l'assoluta incompatibilità per casi del genere e questo è bastato ai giudici per decidere l'annullamento della procedura. Il Ministero ha già fatto sapere che presenterà subito ricorso al Consiglio di Stato in modo da chiedere la sospensione della sentenza del Tar. Ma se si dovranno ripetere le prove del concorso l'intera procedura subirà un rallentamento significativo con il risultato che a settembre non si potranno assumere i nuovi dirigenti. Le scuole attualmente prive di dirigenti dovranno essere assegnate a un reggente per un altro anno ancora. Anzi ad esse si dovranno aggiungere anche le altre 3-400 scuole i cui dirigenti andranno in pensione a settembre. Un mezzo disastro insomma provocato da imperizia o leggerezza da parte di chi ha formato le commissioni e non si è preoccupato di verificare le situazioni di incompatibilità dei commissari senza poi parlare delle responsabilità oggettive di chi avrebbe comunque dovuto vigilare sull'intera operazione. Ora in un paese normale i responsabili sarebbero chiamati a pagare il conto. In un paese serio i responsabili sentirebbero il dovere morale di presentare subito le loro dimissioni. A seconda di ciò che succederà avremo qualche elemento in più per capire in che genere di paese viviamo. Di questo tema noi continueremo ad occuparci. Ricordate però che nel mese di luglio il nostro video andrà in onda una volta alla settimana nella giornata di mercoledì. Sempre su questo canale YouTube e sul sito www.tecnicadellascuola.it Grazie. 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 Grazie.